32% di tariffa media in meno per le aziende. Una prima sforbiciata alle tasse pagate dalle ditte arriva da un provvedimento adottato dal governo a fine febbraio riguardante l'Ineil, come spiega Paola Durastante, direttrice della sede Ineil di Vicenza. È un tasso medio che è un risparmio quasi del 30% mediamente per le aziende, quindi è un buon risparmio. Sono i tassi che di solito l'azienda paga a noi come premio e quindi adesso è stata fatta questa importante normativa dal governo attuale e invece che pagare faccia presente 500 euro di assicurazione per un cameriere, per un lavoratore dipendente, adesso avrà uno sgravio, quindi riusciranno a pagare sui cittadini. 180-85 euro.